ok siamo in live ciao a tutti ragazzi sono gif g e ci va una piccola spiegazione inizio dalla settima puntata qua su twitch perché questa live di questo gioco lo stavo portando su youtube e vedo già che le cose sono molto migliori qua proprio perché avevo dei problemi a trasmettere con youtube e quindi ho deciso di finire qua al gioco in live sempre però e poi la trasferisco su youtube lo esporto facciamo così perché ho tribulato veramente troppo quindi mi sono stufato e allora le faccio solo più qua le live niente quindi iniziamo volevo solo aggiornarvi e mettervi allora prima per aggiornarvi allora qui siamo arrivati a un punto che è praticamente l'ultima puntata l'ho passata a visitare le vecchie zone che avevo già visitato cioè i posti dove ero già passato perché avendo nuovi poteri come questo o questo posso raggiungere posti diversi che prima non potevo adesso voglio solo potenziare un'arma e poi riprendiamo l'avventura quindi vediamo subito migliora potenzialmente dovrebbe essere questo sì allora me ne manca ah no artefatto infernale me ne mancano troppi quattro peccato ah no non era questo sbaglio questo mi interessava me ne mancano tre lo stesso va bene non posso fare neanche questo va bene allora quindi continuiamo l'esplorazione io adesso avevo fatto tutto il giro ero ritornato indietro da qua possiamo andare subito dal mercante così ci spostiamo velocemente ma ciao eccolo qua saluti vedi che saluta anche lui educato allora questo l'avevamo visitato qui eravamo prima fratto cielo ci siamo andati a questa zona qua allora andiamo a vedere questa che è proprio popolata e caricamenti sono un po lenti per chi fosse la prima volta che vede questo video questo gioco eh sì sono proprio un po lunghi ci posso far niente l'ha fatto così sto gioco soprattutto se muori diventano lunghi mamma mia e qua non è che sono tanto sveglio eh devo fare un po faccio parecchia fatica devo riprendere un po la mano allora comunque stasera poi continuerò invece con destini ok siamo nel posto giusto qua la vita è abbastanza complicata andiamo a vedere allora qua c'è qualcuno sento il rumore sento il rumore del lavandino e un nemico eccolo lì merda e cazzo ecco attacchi circolari così lo prendo di sicuro perché non lo inquadra essendo trasparente eliminiamo anche l'altro fai bravo tu sti piccolini fanno tanto casino ma non contano niente allora là sopra giù ok qua ce n'è due enormi che dormono se vado sotto si incazzano come delle bestie però io voglio provare a rubargli qualcosa fate vedere se di là c'è alcun passaggio proviamo via fai di continuano a tirare i sassi poi si incazzano non ho visto neanche quello che ho raccolto fate vedere un po' probabilmente solo cose così minore vabbè questi ce ne servono altri tre li vende anche ma costa tantissimo comprare dal mercante qua ne abbiamo abbastanza per salire di livello si possiamo iniziare a salire di livello così abbiamo la vita un po' più semplice e adesso quelli stanno svegli lì sotto incazzati neri ah no ti è risata dolce proprio come una vecchina mamma mia solo i peggiori sono sopravvistati allora tutti dovrebbe bastare no guarda mi sono arrampicato a lui saluti ok sarà divertente ah ne bastava anche meno ok e a sto punto andiamo tutti a posto così allora possiamo aumentare qualcosa o questo o ancora questo va sale di meno ma aspettavo che facessi di più però vabbè 57 si non ti preoccupare allora facciamoci un giro recuperiamo un po' di spiritelli ok sei strunse tu maledetto cazzo non ti avevo visto te ok però tu adesso hai davvero dato fastidio e baffanculo fino alla fine colpa mia alla fine colpa mia alla fine se cazzeggio così male però allora che cazzo sei veloce un po' mi butti di sotto oh infatti quelli mi massacrano se scendo là sotto sono in due sono troppo fetenti in due già da solo non è facile da affrontare almeno per me ok ora quanti ce n'è mamma oh l'ultimo colpo non l'ho ciccato bene ah lassù però mi sto perdendo qualcosa ah no è vero che c'è quella quella via là che non posso ancora percorrere perché mi manca qualche potere quindi dovremo poi tornare qua e quelli lì quando saremo più forti poi li romperemo il culo però mi sono agitati tutte e due pieno di cose da raccogliere è un buco anche chissà dove porta potrei provare di corsa dovevo provare mentre dormivano però ma che cosa c'è sono perso qualcosa no ah no è solo il muro niente mi sembrava va bene guadagniamoci ancora qualche spirito così poi riusciamo a salire ancora di un livello e piano piano riusciamo a guadagnarci la zona ah è vero c'è anche qua no di qua ah ah sta tu ah qua c'è il lavandino rotto ah fa male il fuoco maledetto ok altra roba recuperata ci sono minion è morto oh bene bene stiamo recuperando vita anche picchiandoli perché ho messo solo una gemma che ma dai ah un po' più grossi quelli c'erano i minion c'erano solo che non mi ero avvicinato ok ci ha visto prima quello grosso ma meglio così qua dove devo andare aspettate un attimo no figurati così non si aggancia boh proviamo no non si aggancia neanche lì ci proviamo da qua c'è qualcuno che ha ansima ah stai facendo colazione era meglio che stavate nascosti ok questa è roba che ci serve per potenziare l'armi qua sotto c'è uno stronzo ah questo è il passaggio ecco perché non riuscivo ad arrivarci dall'altro lato praticamente c'è un passaggio ok no non si aggancia va bene ho almeno capito da dove si arriva ah ma guarda lì forse lì che si può passare eh se ogni tanto vedete che va a scatti non ci posso fare proprio niente è il gioco purtroppo vediamo se da qua riesco si oh ah una cosa che adoro di questo gioco è che se esplori trovi sempre qualcosa e comunque c'è sempre una maniera per arrivare da qualche parte vedete vedete eh già vai un altro frammento bene oh così aumentiamo la potenza delle armi e adesso da lì alla giù ce la faremo oh là c'è un altro passaggio c'è un balcone almeno vediamo no meglio così almeno non mi sono fatto male è un bel casino però eh come faccio ad arrivarci allora col doppio salto solo senza usare il potere va bene ok ok solo il doppio salto dai perché non ti attacchi che cazzo faccio eppure sembrerebbe la strada sono io che non arrivo dal lato giusto c'è qualcosa di rosso che si muove dentro il palazzo sarà un errore o sarà davvero un nemico o qualcosa un fuoco eh ce l'ha qualche pecca però è piacevole sia da vedere che da giocare niente di eccezionale però vabbè non è che si può giocare solo a capolavori vai terzo tentativo no ci rinuncio eppure ci porterebbe da quel lato lì molto probabilmente non lo so vedete che c'è non ho il controllo dei miei poteri va bene dai andiamo ancora un po' in là quanto bisogna arrivare almeno a 6.000 qua giù ce n'è un altro di strunz ok cinghiate per loro ah si qua c'è un piccolo passaggio il buco che ci porta dove è l'avevo visto prima qua avevo liberato un umano basta mangiare oh e che cavo e abbiamo anche la forma caotica adesso la forma del caos là c'è un altro lavandino bene rompiamo tutto per non si se mai ci sia qualcosa dentro di utile no e di qua l'avevamo esplorato anche qua ci porta su nel palazzo pieno di strunz sa che qua l'abbiamo girato tutto adesso ho tolto quella cosa lì sopra che non riesco ad arrivarci dai devo incendiare tutto per salire allora vedete perché c'è il passaggio dovrebbe arrivare qua a meno che non ci si arriva solo dall'altro lato adesso ci resta quel buco la però da vedere quello è un bel casino si attirarli lontano dal buco guarda ridanneggiandone uno col fuoco potrebbe essere vedi si incazza vai no abbiamo solo fatto incazzare malissimo così ok ok vai non ci ha visto si è presa male ok vedi è da visitare questa zona guardiamoci solo intorno ah e poi ci sono e poi ci sono ancora queste pareti che mi manca sicuramente un potere perché sembrerebbero essere scalabili ma non con con quello che ho adesso difatti quelli lì sono mostri troppo forti per poterlo vedi è come se potessi rimbalzare da un lato all'altro però adesso non posso niente con l'altro potere neanche no posso solo provanare vai 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 ah i sassi lo so maledetti guarda come tirano via mettiamo un tronco fra di noi e i mostri allora ah un attimo mi ero dimenticato adesso andiamo a vedere un attimo anche lì però mi sembra che da lì arriviamo di me dare il banvenuto un secondo un attimo un attimo Grazie. Ok, la live va bene, comunque trasmette bene qua sotto dieci. Se ne è proprio... basta. YouTube le live non mi piace per niente. A parte che sarà colpa anche della mia linea. Eh, sicuro. Però... Aia! Oh! Ok, niente, vabbè, allora questa zona l'abbiamo visitata. Possiamo anche toglierci dai marroni. Proseguiamo da qualche tabale. Intanto... Questo è il nord. E quindi è ancora più a nord, però ce lo indica. Un attimo. Fatemi guardare dove siamo. Che non ricordo a memoria. Da questo umile mercante. Prego, fai con calma. Eh, siamo a nord. Di qua. Attrivo di avarizia. No. Ponte. Ponte. Anticamera. A questo punto... A questo punto... A varizia no. Chi era già il primo? No, avarizia non era il primo che ho incontrato. Scambio qua dove c'era invece... Ehm... Acidia. No, no. Oh, proviamo ad andare un attimo la cisterna. qua. Non mi ricordo. O prima le catacombe. Andiamo prima le catacombe. No, aspetta. Anticamera. Dov'era sto posto? Ah, sì, no, qua. Qua dovrebbe essere dove devo andare. Perché c'è un posto dove posso planare. Andiamo. L'ultimo potere che mi è stato dato è quello per planare. Il fulmine, comunque. Uno è il fuoco, questo è... L'altro è il fulmine e poi boh. Si darà l'acqua e la terra? Non lo so. Vedremo. E' già popolato qua. Allora, se non sbaglio... Posto? Niente. Guarda che c'è ancora uno in adorazione lì. Wow. Lasciamolo lì, lui. Sì, sì, qua è proprio dove arriviamo dal signore delle profondità, il signore di qualcosa. Ok. Che frecce? Sai dove te le metto? Ok. Allora, dovrebbe essere tutto aperto qua, eh. Un attimo che... La scatti. Mi piace il fuoco. Questo l'abbiamo già attivato, la porta era di lì. Sì. Abbiamo trovato un... Un nemico particolare da queste parti, non credo ci sia di nuovo, fatemi vedere. Aspetta, dovrebbe essere entrata un po' più comoda. Di qua. Ma se c'è di nuovo ce la diamo a gambe, perché... È tosto. Però l'ho già battuto, abbiamo già recuperato quello che c'era da recuperare. No, non c'è più qua. Comunque. Cellulare, ma non mi serve. Sono dimenticato di... Di silenziarlo. Non ci posso fare niente. Adesso. Ok. Il ponte era aperto. Qua avevamo attivato tutto col fuoco, sì. Quindi proseguiamo. Potevo andare più vicino, ma non mi ricordavo con... Bene, dov'era. Oh, c'è qualcun altro qua. Ah, questo è tosto, eh. E io subito. Ah, ma adesso siamo più potenti noi, quindi risulta molto più semplice. Ok, un altro stronzone con una spada. Arriva Bellano... Eh, c'era questa. Come si chiama sto posto? Dove siamo? Ah, eccole qua. Catacombe, ecco. Dovevo venire qua. Io l'ho fatto anticamera, vabbè. Come desideri. Come desideri. Passarvi. Sono divertente per tutte e due. Manca poco. Come desideri. No, assicuro. Facciamolo salire di livello, siamo qui. Sì. La più piccola dovrebbe bastare. Sì, sì. No. Che cazzaro. Sempre la più piccola è questa. Sì, sì. Basta, mi stai facendo diventare scemo. Allora, un punto. Questo è 61. Questo è 63. Qua. Ora. Bene. Oggi siamo sempre più... più potenti. Allora, di là c'è la strada, però è di qua che dicevo io, probabilmente. C'è nessuno? Ah, sì, è vero. C'è uno stronzo che mi sembra nascosto da qualche parte. Ecco, è lì dove devo planare. Però... Lo prendiamo da dietro, noi. Ok. Di qua c'erano delle altre catacombe. Buon. Lasciamolo lì. Qui dobbiamo cambiare. Potere. Però... Laggiù già ce n'è uno che vive nel fuoco. Non va per niente bene. Allora. Ok. Ok. E dobbiamo arrivare laggiù, credo. La nostra destinazione. Sì. Oh oh. Bene. E mo? E mo? Siamo fregati, però. Vediamo un attimo di qua. Vediamo un attimo di qua. Forse laggiù. Però devo cambiare all'ultimo il potere. Si potrà. Andiamo a provare. Ho i miei dubbi. Lì sotto non c'è niente. Ah no. Mi sembra che quando scendevo dopo un certo tot... ...facceva morire. Chissà se si arriva là. Ah, c'è un... Da qui? Che scemo. Allora. Fuoco. Proviamoci. Sì. Ok. Piccolo pasticcio qua. Ok. No. Ce la faccio? Ok. Di qua c'è un passaggio bloccato. Perché se è rotto così non lo apriamo. Chissà da dove ci si arriva. Sento anche ringhiare dall'altra parte. Ok. Vediamo. Allora. Niente. Sarà di là il passaggio. Sicuramente dietro la lava. Qua sotto no. Qua sotto no. Vediamo se riusciamo... No. Ci ha visto. Figura che... No. 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 Cazzo. Eh. Siamo lentissimi. Ok. Vabbè. Ma lo ricordavo più duro. Solo che adesso abbiamo potenziato. Quindi... Ah no. Ha cagato qualcosa. Bene. Un potenziamento. Ok. Fatemelo vedere un attimo. Adesso le ho assegnati già tutte le armi. Però... Vediamo i potenziamenti. Qual è l'ultimo? Ok. E genera collera. Potrebbe essere comodo. Ma per adesso mi interessa di più che mi rigeneri la vita. Quello che ho. Qua? No. Non c'è niente. C'era solo allora il potenziamento. Amen. Ci ha fatto tutta sta strada. Togliamoci dai. Oh. Via. Ok. Là ci sono... E vai. Bene. E anche questa è fatta. Cambia. Ok. E allora abbiamo visitato anche questa zona qui che c'eravamo qui. Abbiamo già passati. Quindi possiamo ritornare da un'altra parte. Vediamo un attimo solo di qua. Ok. Pieno di testine. Allora questa era la strada che avevo fatto l'altra volta. Di qua bisogna passare se non sbaglio. Sì. E non c'è più niente. Andiamocene su. Di qua. No. Ho battuto la testa. Bene. Di qua si usciva più o meno all'aperto. Vediamo se adesso in questa zona abbiamo altre cose da visitare. Forse di qua. Ah no. Di qua l'ho già fatto. Era quella forse l'unica strada. Ah. Qui c'era il bambinetto morto. Se ne sono andati. Andato via Ciglia. Sono andati via anche loro. Allora. Ah no. Qua forse prima avarizia incontriamo. Sì. Così sembra bene. Non c'è nient'altro. E allora di qua. Ok. Grande furia. Qua un passaggio. Dov'è il passaggio? Non lo vedo. Sopra. No. Ah. Sopra là. Ok. Era nascosto bene. Qui abbiamo un po' di schifezze. Passiamoci giù. Ok. Qui c'è il nostro amico. Questa zona qua. Com'è che si chiama? Cosa desideri? Da questo... Prego. Fai con calma. Entrata. Poi c'è... Tornello. Credo che sia questa la strada giusta. Credo che sia questa la strada giusta. Che ci porta poi a... No. Catacomba ce l'ha messa dopo. Ok. Anticamera. Un po' a caso eh. Un po' a caso eh. Entrata. come desideri. Come desideri. Allora. Qua quanto ne abbiamo? 6200 ci servono. Come desideri. Bene bene saliamo. Cosa desideri? Sarà divertente per tutte e due. Ok. Come desideri. Hai rotto? Dio per ora. Mamma mia. Ehm... No. Vabbè. Mettiamo il punto. Allora. Questo è 69. 61. Potremmo attaccare danni fisici, arcani. La vita? Si dai. Senti come se ne ride. Un attimo che... Ah uno c'ho l'orecchio messo male. Ok. Questo non si apre. Lì c'è un altro passo. Ah lì da dove si arriva bisogna fare tutti dei cunicoli per scoprire questo posto. Schifo. Ok. E qua c'era uno stronzo se non sbaglio. Ok. Ok. Niente. Niente. A questo punto. Anche quello. Ok. Vediamo di qua. Intanto va proprio a scatti il suono. L'hanno ottimizzato proprio male questo gioco. Eh vabbè. Magari lo aggiusteranno. Però è già un poco in giro. Cos'è dell'anno scorso? Fine anno scorso. Allora qua. Laggiù c'era acidia. E non c'è più niente. Adesso di fatti c'è un ponte. E qua c'è uno stronzo. A cinghiate ti prendo eh. Qua sotto c'è un altro. Anzi più di uno. Boh. Non mi ricordo da questa parte. Vediamo se troviamo qualche cosa. Allora di lì. C'è l'altro parcante. Qua giù. Non c'è qua. Non ci sono stato qua. Ok bene. Infernale. Serve per potenziare. Gli amuleti. I potenziamenti delle armi. Anche queste ne mancavano quattro. Mi sembra. Vado a controllare un attimo. Vabbè. Ci sono dei buchi no? Che li nascondono bene qua. I passaggi. Ok. Di rumore. Niente. Ok. Fatemi solo controllare se posso scambiare un attimo le armi. Allora. Ok. No. Abbiamo solo questo. Equipaggiato. Equipaggiato. Questi li abbiamo potenziati. Questo è quello che mi interessa di più da potenziare adesso. Bene. Va bene. Qua no. No. Così no. C'è solo lo stronzo. Vabbè. Vabbè. Cazzo se fai male. Siamo prima di qua va. Ok. Qua ci sono gli insettoni. Non se ne sono andati. Pensavo che mortocidia se ne sarebbero andati. Un attimo. Sto facendo casino con il microfono. Un secondo. No. Non sia così. Ok. Mi senti così? Sì, sembra funzionare. Problemi tecnici. Allora, come si chiama questo posto? Stazione di scambio, ok, va bene. Poi sicuramente il passaggio sarà da qualche parte, è abbastanza semplice. Ok, però... Ah, forse lì sotto c'è qualcuno. Giù. Qui c'è l'insettino. Ok, adesso non ci siamo niente. L'abbiamo ucciso involontariamente. No. No, niente, proviamo a vedere un attimo di qua. Allora... Ah, c'era un passaggio forse, andiamo a vedere. Forse di qua? Che non me lo ricordo. Ah, sì. Vedete, le ragnatele col fuoco le possiamo bucare. E quindi questa è una zona da visitare. Bene. Se scendo però non va bene. Pieno di insetti che ci attaccano. Pieno, pieno di insetti. Basta, fate i bravi. Ok, dovrei aver liberato quella roba. Basta, vi disinfesto proprio. Cosa è cagato? Bene. Oh, vedi? C'era una strada che non avevamo visto. Vediamo. No, non è profonda. È bello se mi immergo nell'acqua si spegne il potere del fuoco. Logico, ma è simpatico che succeda. Qua sono tutti salti molto alti. Non so se poi riesco a tornare su. Vediamo qua. Sì. Ok. Ok. Bene. Ok. Un attimo che controllo sempre l'immagine. Sì. Sì, sì. È un altro mondo proprio. Fare le live qua sopra, altro che... YouTube mi dà troppi problemi. Quindi è la linea, chiaramente. Avesse una linea più potente, magari no. Perché vedo che tanti ci riescono tranquillamente. Ma io, ora adesso non ho una linea adatta. Quella che ho... Oh, bene, bene. Questo ci serve per potenziare l'arma. E qua eravamo da qualche parte... Che ce la faceva vedere, sì. Vabbè. Vediamo se ci sono buchi o cose da visitare. No. No. C'era solo quello. Però quel pezzo lì è fondamentale. Lo vende a duemila. Quindi... Ok, qua non c'è niente. Ok. E anche questo è fatto. Cos'era? Lì non è un cadavere. Bisogna rivisitare tutto perché devo trovare la strada giusta. Allora, vedete sopra nella bussola, quel teschio che c'è in alto, indica il prossimo peccato capitale che stiamo dando la caccia. E quindi dovrei seguire solo quello. Più ci siamo vicini, più diventa... Si colora. E poi abbiamo... Ecco, guardate qua davanti. Vedete quella gemma con la faccia? Sempre. Col teschio. Si illumina quando siamo vicini al... A un peccato capitale che è la nostra missione principale. Però c'è anche altro. E andando in giro potenziamo sia il nostro personaggio... Che è quello che... Per adesso fra i Darksiders lei è quella che mi è piaciuta di più come personaggio da usare. E decisamente più... Qua c'è qualcosa per attaccarsi? No. Però forse posso planare. Che dite? No, però c'è... No, ci si arriva da là, lasciamo stare. Passiamo di qua. Ok. Ah sì, qua c'è un mostrone. No? Forse è uno di quelli che una volta morti non tornano. Vedere solo che non si mimetizzi. Non dorme nell'angolo? No. Ok. Allora. Ecco qua, altre ragnatele. Però no, forse queste sono quelle che si fanno sempre. Devo guardare un attimo. Ah sì, di qua dovrei andare da dove vedevamo prima. Ok, sì. Sotto. Niente. Il vuoto. Visitiamo prima bene questa zona. Fai il bravo tu. Ah, hai visto da mangiare? Qua non c'è niente. No. E questi insetti hanno reazioni diverse. Allora, se lo... Vabbè. Se lo prendi in mano o lo colpisci, dopo che mangia la roba rossa, esplode facendo fuoco. Serve per bruciare le ragnatele. Ora non ci serve più. Poi c'è un'altra qualità, viola, che serve per abbattere dei tipi di muri, invece. Adesso vediamo un attimo qua. Ah, ok. Quelle rosse. Ok, non c'è più nessuno, niente. Le ragnatele rosse tornano, ecco. Allora, andiamo a vedere prima sotto. Ecco, vedi? Se lo tieni in mano, chiaramente quando esplode fa male. Ah, no, è solo il passaggio. Che cavolo faccio? E allora ci serve... Dov'era? Quella sopra. Di qua. Andiamo a vedere se di qua non c'è qualcosa da esplorare. Che non potevo passare prima. Ok, qua. Ah, sì, qua abbiamo incontrato un altro... Dei peccati. Sconfitto. Siamo stati catturati e portati da... Il signore delle profondità che sia, non mi ricordo. E allora forse è di qua. Ok, qua c'è una via. Bene. Profi, ma voglio esplorare perché quando sono arrivato ho solo combattuto. Possiamo andarcene da qui. Il presente è già abbastanza tedioso, senza dover rivivere queste storie. Eh, quello è il nostro cavallo. Qualcuno la pagherà cara per ciò che è successo al mio destriero. Qualcuno urlerà. Bello, non me l'aspettavo se... Invece no. L'abbiamo chiamato. E ce l'hanno ucciso. Non sappiamo chi. Vedi che dovevo tornare qua. Ok. Cavalieri morti. Angeli. Angeli morti sembrerebbero. Oh. Benissimo. Ok, non c'è nient'altro. No. Ho una luce. Ok, andiamo a vedere di qua. Dovrebbe essere questa la strada giusta. Vediamo dove ci porta. Niente. Chi c'è là sotto? No, ma di nuovo le catacombe. Allora, là c'è uno stronzo che so già che si parla. Andiamo. Ok. E basta, tu. Bene, questa zona qua è da visitare. Sembra un altro piano delle catacombe, però non l'ho ancora visto. Ricordo sempre che è la prima volta che gioco a questo gioco, quindi è tutto nuovo per me, anche orientarmi. Bene, iniziamo prima qua. Bene. Qua c'è rumore. Oh, ciao! Sì, contaci. Dai, fai il giro. Ecco, così finisco quello che ho iniziato. Uh, bene. Altro ammasso di spettri. Ok. Ripulita quest'area. Diamo fuoco a quell'affare così vediamo cosa caga. Dove sei? Ah, speravo in un coso angelico, ma invece no. Un attimo. Ha scricchiolato la mia sedia, adesso sprofondo in diretta. Un attimo, eh. Ok. Va bene. Andiamo a vedere. Ci resta solo questa via e quella di là. Ok. Ok. Bene. Dove siamo qua? Un attimo però, prima di andare via... Mamma mia che deve andare a scatti ogni tanto... Con calo di frame. Eh, qua proprio deve caricare. Vediamo dove va. Andiamo prima sotto. Sento... Gorgogliare. Sarà uno di quelli che vive nella lava? Sì. Però il maledetto tira le... Ah, c'è un passaggio. Bene. E poi roba da raccogliere. Sa che non è l'unico qua dentro. Proviamo. Infatti, laggiù ce n'è uno più grosso. Recuperiamo la roba di qua, prima. Ok. Cazzo si generano qua. Eh, cazzo. Oh. Sono incazzato a bar... Guarda quello col martello. Sì, sì. Ho capito chi è. Ho già incontrato uno. E' meglio tenercelo alla larga. Faceva da... Guardiano della porta del... Quel signore delle profondità che sia. Ok. Bene. E qua... Allora, qua si può scendere. Però... Non possiamo più salire. Perché ci va un potere particolare per usare quelle pareti. Che non abbiamo adesso. Quindi cosa vi dico? Torniamo indietro. E andiamo a visitare prima l'altra zona. E via. Così si fa decisamente prima. E quello lì lo... Eh, lo... Visiteremo quella zona lì la prossima volta. Anche se c'è della roba. Mi dispiace lasciarla. Però se ci attacca quello... Siamo fregati. No, deve caricare di nuovo. Mamma mia. Cazzo, dovete... Ottimizzarlo però, eh. Un attimo. A questo punto mi sistemo la cuffia che mi dà... A fastidio all'orecchio. Bene. Andiamo a vedere di qua. No. Sbaglio. Ok. Anche quei cose lì. Non ho ancora capito se si può interagire. Ma non adesso almeno. Ci fa risalire qua. Forse torniamo solo sopra. C'è un po' di quella schifezza. No. Eh, qua bisognerà per forza... No. Proviamo con questo. Ma non credo. Non è quello che ci serve. Allora qua bisogna tornare per forza con altri poteri. So che dire a questo punto. A questo punto potremmo provare a buttarci giù di là. Anche perché qua siamo arrivati da... Da dove? Da qua sopra. Vabbè, da qui si può comunque tornare su. Sì. Tranquillamente. Allora. Vediamo. Un attimo. Qua c'era solo questo. Ah, sì. Sì, solo questo passaggio. Allora niente. A questo punto mi butterei giù da quella strada di là. Anche se non possiamo tornare su. No, eh. Carica con calma, con comodo. Ah, di qua però? Non c'è niente. Sotto no? No. In alto neanche. No. Proviamo. Ci lascia scendere. Quindi probabilmente ci sarà una maniera. Che palle. Eh, vai. Chissà cosa custodisci tu lì. Quello è proprio forte. Vabbè. Niente. Buttiamoci giù. Questa è chiusa. Ah, siamo tornati di un posto che conoscevamo già. Sì, niente. Ci ha fatto semplicemente tornare indietro. Che quella roba lì l'ho attivata io. Ah, ok. Boh. Siamo a posto. Questo come si chiama sto posto? Cosa desideri? Da questo umile me prego, fai con calma. Ah, ok. Il ponte. La sala del sigillo. Vediamo se ci dà qualche indicazione. Proviamo, andiamoci. Al massimo ci spostiamo poi di nuovo da lì. Alla prossimo ci spostiamo. Fatto. Allora, qua sotto intanto non c'è niente. No, c'è solo lui. Andiamo un attimo a parlare con lui. Vediamo se ci dice qualcosa. Aspetta. Sparisci sotto, c'è scritto. Lui dice vattene. Ok. Ah no, aspetta un attimo, vattene. Dovrei capire anche qua sopra cosa c'è. Un secondo. Come è caduto l'accendino. Allora. Aspendi. Qua non c'è niente. No. Niente. Sotto niente. Sotto niente. Nippa. niente e vabbè a sto punto allora passiamo di qua andiamo dal nostro amichetto ci spostiamo con i portali ecco dove siamo di nuovo dove possiamo andare allora altro di avarizia ah forse qua si da avarizia vediamo che forse c'è un passaggio che prima non potessi no perché avevo già il potere boh vediamo eh devo andare a tentativi intanto stiamo recuperando tutto il materiale che ci serve comunque per potenziare sia l'arma che il personaggio ah ho visto che vende anche le armature però le armature costano care si allora c'era un passaggio di lì che ci portava forse da acidia di fatti si e qua c'è anche un passaggio però non siamo ancora riuscito a capire come ci si arriva no 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 possibile possiamo anche un museo gigantesco esco no torniamo un attimo a tornare dentro il museo dove c'era qua eh sì di nuovo ok qua non c'era nessun passaggio ah gli stonzi sono tornati però sti bambini brutti allora passaggio là sopra no no forse sì c'è qualcosa sopra no devo poi controllare io voglio vedere di qua forse di là oh adesso vediamo prima eliminiamo questi bomba non c'è eh cazzo sei duro no bene adesso facciamo attenzione solo a ecco quello che ci tira le bombe altri non ce n'è omuncoli malefici allora qua qua niente e allora niente si torna giù andiamo a vedere questo lato ok omuncoli anche di là forse è questa la strada vieni qua sei anche nudo tu mamma mia che brutto questo è fatto allora bombe no non ce n'è fanno le trappole esplosive questi no tanto non ci si arriva allora no non è questo il passaggio giusto qua c'era solo da liberare la ragnatela per sbloccare una cosa buono niente e allora si torna indietro ecco ci arrivo già di là non mi ricordo più ah da in fondo forse però è pieno di schifezze maledetto no dà via la fuga cazzo ha fatto esplodere la bomba col corpo altra bomba ok e anche qua abbiamo fatto allora vediamo un attimo se si può salire ancora sopra poi ci trasferiamo di nuovo no che cazzo no non c'è niente qua buon eppure c'è quel passaggio è chiaramente visibile ma non ho capito come ci si arriva vabbè ci sarà un modo mi perdo qualcosa sto notando qualcosa se qualcuno notasse se qualcuno notasse fatemelo capire no sull'immondizia ci saliva solo il peccato noi non saliamo qui sopra niente è anche indistruttibile questa immondizia boh lui poteva distruggerla forse ha distrutto qualcosa qua qua niente e sono perso non mi ricordo più quale potrebbe essere la strada saluti allora barchi prego fai con calma un'altra quest'altro forse andiamo si vado a vedere qua vediamo cosa succede stazione di scala no ma non mi sembra che ci sono passaggili cisterne andiamo prima qua tanto poi ci spostiamo eh devo trovare la strada altrimenti continuo a girare a vuoto a meno che non devo tornare al principio proprio vorrei andare a vedere tornare dove ho beccato il primo tra tutti i peccati tornano sempre le bestie qua no no va bene fatemi solo attraversare il ponte e vediamo cosa succede di là cioè cosa succede cosa c'è che magari non ho notato eh dai deve caricare anche questa zona non c'è niente qui da dove arrivavo qui da dove arrivavo si cos'è che mi ha scritto riscrivimelo riscrivimelo ah si o niente dice l'ovvio lo che so fino all'inizio saluti prego fai con calma come desideri allora a sto punto andiamo di qua andiamo verso il peccato più vicino forse l'ha capito anche il gioco che mi sono perso vediamo dove ci porta a caricare la la zona nella quinta puntata ne ho battute due di distrusse ok giusto vediamo dove è il più vicino a sto punto seguiamo solo la bussola così andiamo via anche da sto posto rimpari ok si 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 ci sta guidando bene ok si ok continuiamo a seguire la bussola un altro un altro aia che stronza aspetta un attimo di quanto l'ho potenziata l'arma voglio capire bene questa più 5 questa più 1 questa più 2 non mi ricordo perché forse mi mancava il materiale sicuramente bestia schifose usiamo un po' l'altro questa è veloce ho usato poco perché è anche l'ultima che ho recuperato ci vuole portare qua sotto possibile vediamo ah no è giusto di qua ok dritto di lì se vuole guarda che si è arrabbiato sei un piattolone con le chele giganti ci spostiamo veloci però con questa fammi vedere un attimo le mosse di questa impalatore in aria allora un attimo bella questa è proprio bella devo prenderci un po' la mano e poi l3 più bella non mi veniva all'inizio ok dai vediamoci di qua dove cavolo è la direzione se qua è chiuso qua c'è un passaggio no mi fa tornare indietro qualche parte sopra ah il buco eh si io vediamo di qua entra un po' stacco perchè ho già fatto già troppo ho iniziato tardi oggi ma non ho potuto fare prima di qua di qua è largo di nuovo l'area ok adesso dove mi sta portando di qua di qua sopra non c'è niente vabbè siamo su di qua di qua ci vuole portare va giù devo andare frutto strus non devi fare il furbo hai visto come è andato a finire dai di qua ok allora la strada è quella adesso a sto punto però facciamo un attimo una cosa andiamo prima a vedere se riusciamo a potenziare l'arma armi e eventuali gingilli attaccati alle armi fatto non finiva più l'ascensore ehi ok parla allora migliora potenziamento questo è quello che allora cosa c'è ok ok questo usa quelli infernali siamo all'inizio questo sale in fretta però infernale ah sopra angelico infernale vabbè comunque è lo stesso allora questo si può fare oh così aumentiamo un po' il guadagno di vita benissimo uno dei miei lavori migliori interessante l'intenzione di andarci giù pesante eh questo lo si può potenziare questo frammento ce l'abbiamo ok scheggia e scheggia no allora potenziamo questo non lo credevo possibile ma ora sei ancora più letale ok uno dei miei lavori migliori e adesso siamo buona fortuna a furia ancora più letane va bene ragazzi ci fermiamo di nuovo qua e un attimo è solo che così mi ricordo 622 ok farò vedere se poi rimane salvato niente ragazzi vi saluto stasera sarò di nuovo online sempre su twitch con destiny quindi ciao a tutti ciao a tutti